Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 10,50. tra... 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 ... 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 Cos'è questo? Cos'è sarebbe? Cos'è? D'inverno quando ci passano. Ho capito. Andiamo? Cos'è il per vedere quando lo aprono? Per vedere quando è che lo aprono. No, sì, 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 sì. Non è che hanno chiuso? Buonanotte. Spero. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Sperto l'amogli Questa è una bella giornata, siamo divertiti, no? Sì, sì, senza altro, nel posto. E quando ci torniamo? Chi lo sa, fino di un ordine, chi lo sa? Con i figli o senza figli? Non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so. Non so, 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 non Grazie a tutti. Grazie a tutti.